ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video come vedete scorrere dietro le immagini ecco la nuova base camus da 8 Nm prima di tutto vorrei ringraziare alessandro pettenuzzo di tz da sim project per avermi dato questa possibilità e avermi dato le prime informazioni diciamo che abbiamo su questa nuova base quindi un 8 Nm come vi anticipavo uscita imminente ad aprile questa forma diciamo molto interessante triangolare che si distingue da quello che sono le forme classiche che si trovano sul mercato direi che finalmente comunque una forma molto intrigante a me piace a dire il vero da quello che si nota dalle immagini e il solito quick release molto interessante che ho già discusso ampiamente nei video precedenti che perché mi piace particolarmente si nota si nota dalle immagini anche la possibilità ovviamente di fare il plug di eventuali accessori quindi per creare un ecosistema camus non ho altre informazioni tecniche in merito lo sapremo più in là però quello che vi posso dire che abbiamo più o meno di quello che sarà il prezzo proposto per questa base camus sappiamo che si distingue oltre che per la qualità dei prodotti anche per il prezzo infatti l'azienda cinese vi ricordo perché per la base 15 Nm si presenta con un costo di 700 euro a casa grazie ovviamente ad alessandro pettenuzzo del tz sim project ricordiamolo e questa base qui dovrebbe essere presentata tra i 400 e 450 euro di base appunto la base direct drive e in bundle con una corona tra i 600 e 650 euro e quando il completo corona base più pedaliera si parla di 850 900 euro e per una base da 8 Nm mi sembra molto interessante in linea con quello che è il mercato se non forse un pochino più competitivo quindi ragazzi io non ho altre informazioni vi lascio con le immagini che scorrono per apprezzare questa forma comunque particolare che devo dire la verità a me piace spero che questo video vi sia piaciuto appena avrò informazioni più dettagliati in merito non esiterò a fare un altro video come al solito ragazzi vi invito a lasciare un pollice in su a a lasciare un commento ditemi che cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da fabrizio è tutto ciao